no è partito scusa se guardi dai biii ai bassi va bene allora a camera in quadrati pubblico oh, proviamo molto attenti ma quella è molto ma quella è assaggiantuale ssh perché non c'è chi bello no, 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 non c'è chi bello guarda proviamoci bello ok adesso non più è quella qui c'è la qualità bravi 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 adesso andiamo però scusa che schifo saluta dai saluta che andiamo adesso adesso si è presa bene è il momento del e vai andiamo spiego porcandana si spiego porcandana si spiego porcandana adesso vanno tutti in avattiviglie ah 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 ah